ah ragazzi ragazzi è normale che mi sono ricordato adesso di fare sto video volevo solo ricordare i 18 anni dell'incredibile rimonta di Sampdoria Inter ve la ricordate quando la Sampdoria vinceva 2 a 0 segnando il secondo gol all'83esimo poi nel finale di partita ne segnò 3 in pochissimi minuti anche se non ne ricordo i marcatori comunque oggi quell'evento compie la maggior età e per gli interisti sarà un grande grandissimo ricordo della serie per non dimenticare